Il partaggio però al diciottesimo con un gran gol di Bergkamp che in fila di precisione tra palo e portiere, immobile tour. Al ventunesimo il pubblico smette di fischiare e si alza in piedi per accorto. Il partito è un po' di treghi e qui 2-0 per il Bergkamp. Ja! Van achteruit, ma sempre per Wim Jong. Un pass per il hart per Bergkamp. Schitterend! Il partito è un po' di spazio, il partito è un po' di spazio, il partito è un po' di spazio. Grazie a tutti